Ecco ora faremo un video dei locali e delle taverne che si trovano qui vicino proprio la chiesa di San Lazzar che come recita questo manifesto è 10.000 anni di storia. Ecco qui abbiamo il primo locale che si trova proprio qui vicino che è il Sioia Caffè Ristorante Bar che si trova proprio sulla piazza. Ecco qui vediamo la chiesa. Poi abbiamo di fianco il San Lazzar Caffè Snack Bar e ora proseguiremo per le piccole stradine per vedere alcuni dei locali più caratteristici. Ecco sempre qui vicino la piazza abbiamo il Bacchery, la Zaris Bacchery Bar. Ecco che qui vediamo sempre la chiesa. Ecco qui di fianco abbiamo il Caffè Blu. Ecco qui abbiamo lo Special Kebab House. e poi nell'ordine il Souvlaki e il Grill Chef e il Quick Shop. Ecco ora andiamo su queste vie dove ci sono dei locali più caratteristici. ecco qui abbiamo le taverne e poi ho il Bacchery Bar Old Market Street e poi abbiamo il Bacchery Bar e poi abbiamo il Bacchery Bar e poi abbiamo il Bacchery Bar Ecco qui siamo di fronte a Storys, Duende, qui siamo di fronte a Magners. Poi qui c'è Takis, Kebab House, un buon locale dove sono stato. Qui c'è Tutte i tips, proprio di fronte a Takis.